Salve, sono Simona, specialist della Welbit, azienda italiana impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti nutraceutici e cosmetici funzionali. Oggi il piacere di presentare Prosvit, uno dei prodotti appartenenti all'area uroandrologica. Prosvit è un prodotto nutraceutico utile nel ridurre l'infiammazione in condizioni patologiche attribuibili a prostatiti acute e croniche. La prostatite è una patologia a carico della prostata dovuta all'infiammazione della ghiandola. L'eziologia della patologia è dovuta ad infezioni causate da agenti patogeni quali batteri o a comportamenti scorretti nello stile di vita del paziente. La sintomatologia prevede dolore localizzato nella passaschiena, nell'area pelvica e nella zona genitale. Costante bisogno di dover urinare, nicturia e maturia, tutto questo accompagnato dall'inalzamento della temperatura corporea. Il focolario infiammatorio che si localizza a livello della ghiandola provoca il rilascio di materiale essudato che si calcifica rendendo difficile il trattamento farmacologico e predisponendo il paziente a una cronicizzazione. Il trattamento della prostatite acuta pertanto dovrebbe prevedere, oltre all'utilizzo di antibiotici e antidolorifici, l'assunzione di antinfiammatori naturali capace di agire sull'infiammazione e quindi sulle calcificazioni estuidali. L'utilizzo di sostanze antinfiammatorie fin dal primo giorno di terapia evita la trasformazione dell'episodio da acuto in cronico e in presenza di cronicità acquisita riduce le recidive. Prosvit agisce sull'infiammazione in maniera del tutto naturale senza effetti collaterali, evitando l'insorgere delle calcificazioni e andando inoltre ad agire sui sintomi urinari. Grazie alla sua composizione infatti, Prosvit agisce sulla riduzione dell'infiammazione, del volume e sui sintomi associati alla prostatite acuta. La posologia consigliata è di una compressa al giorno e il tempo di trattamento è di 3-12 mesi. Se hai trovato interessante queste informazioni, lascia il tuo like e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al nostro canale YouTube Wellvit Integratori. Ricorda di attivare le notifiche per rimanere aggiornato sul mondo Wellvit. Un saluto, Simona. Grazie a tutti.